Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un vortice di bassa pressione in risalita dal Nord Africa è ormai prossimo alla Sardegna. Ciò permetterà condizioni di maltempo diffuso su tutto il territorio nazionale con l'attivazione di forti correnti meridionali sul sud Italia e correnti invece più fredde balcaniche sul nord Italia. Il tutto sarà accompagnato da forti precipitazioni in particolar modo sui settori tirrenici in estensione altrove nei prossimi giorni. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 19 dicembre. Al primo mattino ovunque freddo con possibili gelate nelle valli interne della Basilicata. Da metà giornata cieli che saranno pian piano interessati da nuvolosità diffusa e più compatta a partire da ovest. Prime precipitazioni di debole intensità potranno interessare dal pomeriggio il Potentino, il Barese ed il Forgiano. Un più marcato peggioramento giungerà dalla tarda a sera. Temperature in lieve rialzo in particolar modo nei valori minimi. Già dal mattino soffieranno venti di scirocco in intensificazione durante la giornata. Per quanto riguarda i mari risulteranno sempre più mossi sia all'Adriatico ma soprattutto all'Oionio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.